Ha visto più disattesa la meritocrazia il RAI o il Mediaset? Il RAI non è facile, non è facile. La RAI ha sempre avuto, diciamo, non è la meritocrazia, ha sempre avuto, è sempre di più la politica che è entrata in RAI e questo non è sempre facile. Ogni due anni cambia management. Poi dietro questa macchina enorme della RAI c'è la gente che la RAI veramente la conosce da tanti anni, che sa lavorare, eccetera, eccetera. Per loro cambiare ogni due anni guida non è facilissimo. Ha avuto anche molti scontri il RAI, insomma. Sì, sì, certo. E le ragioni profonde quali erano? Ma, sai, arrivando da una TV commerciale, dove io sinceramente avevo una grande libertà di movimento, poi era le Iene, eccetera, eccetera. Arrivando lì pensavo che fossero tutti per uno, no, per tutti. Quando io mi sono resa conto che invece c'era un'ingerenza che io però non avevo mai vissuto in Mediaset, per cui io ho avuto anche la prontezza di rispondere alla RAI in una maniera... Libera. Libera. Perché non mi ero resa conto che poi la politica era così predominante e importante in RAI. E se invece fosse nata Uomo, oggi sarebbe direttore generale della RAI? Probabilmente sì.